Il momento degli auguri con i clienti Banca Trugia, Agenzia 11, allora tutto pronto per il brindisi? Tutto pronto, anche quest'anno abbiamo fatto gli auguri, è stato un anno difficile, non importante, ma finora i clienti hanno risposto bene, sono venuti, hanno fatto una festa, hanno festeggiato, insomma i festeggiamenti ancora durano e siamo contenti, ecco sì, siamo qua. Anche questo è il territorio, nonostante le difficoltà del periodo, del momento, noi ci siamo. Anche queste iniziative sono di vicinanza nei confronti dei clienti, sono piccoli momenti di che trovo. Sì, piccoli momenti di banca popolare, di banca del territorio che cerca così di mantenere sempre il contatto con la cittadinanza, soprattutto di quella da Rizzo. E allora auguri a tutti, li faccio. Grazie. Grazie.